E' di due persone arrestate il bilancio di una serie di controlli eseguiti dagli uomini del commissariato di polizia a Barletta per contrastare il fenomeno dei furti di auto. A finire in manette sono stati due baresi di 35 e 40 anni, Giuseppe Lobascio e Saverio Gravina, volti noti alle forze dell'ordine. Dotati di torce elettriche e diversi arnesi atti allo scasso, entrambi sono stati sorpresi dagli agenti ad armeggiare in prossimità di alcuni veicoli in sosta nel parcheggio dell'ospedale di Miccoli, già in passato finito nel mirino dei ladri di autovetture. Ratti in arresto e in flagranza di reato, i due sono accusati del possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, mentre il solo 35enne, sorvegliato speciale con l'obbligo di dimora nella città di Bari, dovrà rispondere anche della violazione della misura di prevenzione. Per entrambi i soggetti è stata inoltre richiesta l'applicazione del foglio di bioobbligatorio dal comune di Barletta. Il servizio straordinario di controllo dello scorso fine settimana si è concluso con l'arresto di una terza persona, il 38enne Giuseppe Sorbo, residente a Barletta. L'uomo, un sorvegliato speciale, è stato sorpreso all'interno di una sala giochi intento ad effettuare giocate online scommesse, contravenendo così alle disposizioni previste dal provvedimento restrittivo.